Conad è il supermercato dove la qualità, la convenienza e la cortesia rappresentano il valore di fare la spesa, i prodotti migliori, i sapori genuini, l'ambiente adatto per le tue esigenze, ma soprattutto l'amore per il gusto e la tradizione. Supermercato Conad, via Mattine, Agropoli Salerno, telefono 0974 8388 51. Questa settimana sconti del 50% su fette biscottate mulino bianco, birra Heineken, pannolini Huggins, detersivo liquido per stoviglie. Conad, persone oltre le cose.